Per celebrare un milione di vetture Renegade e Compass vendute, Jeep lancia l'edizione speciale North Star, una versione che si colloca tra gli allestimenti Altitude e Summit con un'estetica più elegante e dotazioni che vanno oltre gli allestimenti standard. La robustezza rimane la caratteristica fondamentale, come i nuovi sedili realizzati con un materiale innovativo a elevata resistenza che garantisce una durata fino a tre volte superiore rispetto al tessuto standard utilizzato nell'allestimento Altitude. La Compass propone opzioni sia in tessuto che in vinile, mentre la Renegade adotta interni interamente rivestiti in tessuto resistente e di lunga durata. Le North Star sono caratterizzate da una tinta bicolore dove domina il nero che mette in risalto i dettagli di questa edizione, come cerchi in lega con pneumatici in versione estiva e altri elementi interni ed esterni. Una decalcomania posizionata sul cofano assolve una funzione estetica e pratica, riducendo l'effetto abbagliante del sole per il conducente. Il nero è abbinato al colore della carrozzeria Techno Green, verde metallizzato scuro, una tonalità che si integra con gli elementi esterni neri e si estende agli interni con dettagli come le finiture della plancia e nel tessuto con cucitura e contrasto. Nella versione North Star, sia la Compass che la Renegade vantano elementi che richiamano l'essenza open air di Jeep. Uno di questi è il tetto apribile a doppio pannello di serie, le barre sul tetto, mentre i fenni nebbia a LED assicurano una notevole visibilità anche in condizioni difficili. I loghi neri, i beige delicati e in vetri oscurati aggiungono un tocco di raffinatezza. I cerchi sono neri da 18 pollici su Compass e da 17 su Renegade. I sensori di parcheggio sono presenti sia all'anteriore che al posteriore come il sistema di assistenza al parcheggio parallelo e perpendicolare che semplificano le manovre negli spazi ristretti. Entrambi i modelli sono dotati di motorizzazione hybrid 48 volt e 4xE. I prezzi della Renegade partono da 35.600 euro, quelli della Compass da 41.350.